Si allarga l'inchiesta su Banca Tercas, salgano a 28 gli indagati per truffa in danno agli azionisti e sale da 2 a oltre 3 milioni di euro il conto della truffa. La Guardia di Finanza di Teramo ha notificato 28 nuovi avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altre tanti indagati, tra cui l'ex direttore generale Antonio Di Matteo. La Procura Teramana contesta gli ex vertici Tercas e i dipendenti, in corso tra loro il reato di truffa con le aggravanti di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità, nonché aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. Oltre a Di Matteo, gli indagati sono L'inchiesta del PM Irene Scordamaglia riguarda i pronti controtermine, prodotti finanziari che, secondo l'accusa prospettata dall'autorità giudiziaria, sarebbero stati proposti e venduti ai clienti, coprendo in realtà la vendita di azioni. I fatti contestati risalgono al giugno del 2011. Per il PM, ognuno degli indagati, nelle proprie rispettive funzioni, avrebbe promosso la sottoscrizione da parte dei clienti di prodotti venduti come investimenti ad un anno, con un rendimento garantito, e che invece si sarebbero poi rivelati come titoli azionari Tercas e quindi ad alto rischio. Dopo il commissariamento della banca, avvenuta nel 2012, c'è stata la sospensione del titolo e quindi le azioni non potevano essere né vendute né comprate. L'inchiesta della Procura riunisce oltre dieci denunce presentate da altrettanti risparmiatori che si sono sentiti truffati per aver comprato un prodotto diverso da quello che gli era stato prospettato. Una bufera giudiziaria che si allarga dunque dopo pochi mesi e si aggiunge, ricordiamo, all'inchiesta sul crack di Banca Tercas, in cui ci sono 14 imputati.